Buongiorno da Sicilia 24, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio e Notizia. La cronaca in primo piano partendo da Messina. Parliamo di una violenta rapina in un distributore di carburante, ma gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a rintracciare e arrestare il malvivente. Si tratta di un 44enne messinese. Il servizio. Nei giorni scorsi i poliziotti della squadra mobile e delle volanti hanno tratto in arresto un pregiudicato messinese di 44 anni per aver consumato una rapina armato di coltello presso un distributore di carburanti in zona annunziata. A dare l'allarme è stato il titolare della stazione di servizio, il quale, avvertito dal dipendente, ferito a una mano durante la colluttazione con il rapinatore, ha contattato le forze dell'ordine indicando la via di fuga. Gli agenti delle volanti hanno immediatamente raggiunto la zona e insieme agli investigatori della squadra mobile, prontamente intervenuti, si sono subito messi sulle tracce del malvivente, visto entrare all'interno di uno stabile non distante dal luogo della rapina. A incastrare il rapinatore sono state alcune tracce di sangue presenti nei pressi del portone d'ingresso, oltre che sul citofono di una delle abitazioni dello stabile. Dopo aver bussato insistentemente alla porta, gli operatori hanno udito chiaramente dei rumori provenire dall'interno. Pertanto, insospettiti in merito alla possibile presenza del rapinatore all'interno dell'edificio, gli agenti hanno forzato la porta dell'appartamento con l'ausilio dei vigili del fuoco, nel frattempo giunti sul posto. Dopo circa 20 minuti, dall'interno dell'abitazione, i poliziotti hanno udito la voce di un uomo. Dopo aver aperto la porta, l'autore della rapina, anche egli ferito a una mano, è stato arrestato. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato quindi trasferito presso la locale casa circondariale. All'interno di una tasca dei pantaloni, il 44enne deteneva un coltello con manico in legno e lama ricurva in acciaio, mentre nell'altra tasca 590 euro in banconote di vario taglio. Sul pavimento, sotto il letto, sono stati rinvenuti ulteriori 45 euro, verosimilmente costituenti parte integrante del denaro sottratto alla vittima della rapina. Restiamo a Messina, ma cambiamo argomento. Parliamo, nello specifico, dei servizi antidroga svolti in città dalla polizia, servizi che hanno portato all'arresto di un pusher, si tratta di un 36enne messinese. Tutti i dettagli nel servizio. Nei giorni scorsi, nell'ambito dei servizi antidroga disposti dal questore di Messina, la squadra mobile ha tratto in arresto un messinese di 36 anni con pregiudizi di polizia. I controlli, intensificati in occasione delle festività natalizie, hanno riguardato diverse zone periferiche della città e in particolare il rione Carrubbara, dove sono stati predisposti discreti servizi di osservazione anche nei confronti di soggetti conosciuti dagli investigatori. Gli uomini della mobile, con l'ausilio del cane antidroga Aidi, del reparto cinofili della Guardia di Finanza, hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l'abitazione di residenza di un soggetto già noto negli ambienti dello spaccio. Il fiuto di Aidi e l'intuito degli investigatori è stato premiato dal rinvenimento di un chilo di marijuana, ben occultato all'interno della camera da letto dell'indagato, il quale è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Ci spostiamo adesso a Siracusa, dove la polizia ha invece effettuato un arresto per furto e due denunce. Vediamo il servizio. Gli agenti delle volanti hanno tratto in arresto una donna romena di 36 anni per il reato di furto aggravato. La stessa si era infatti impossessata di 24 calze della Befana, del valore di circa 230 euro, in un supermercato della città. Dopo le incombenze di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, la donna è stata portata nel carcere femminile di Catania. Inoltre, nel corso dei quotidiani controlli a coloro che sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, gli agenti delle volanti hanno denunciato un giovane di 24 anni, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e risultato assente al momento del controllo. Infine, i poliziotti della squadra mobile hanno denunciato un uomo di 43 anni, il quale, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una cartuccia inesplosa calibro 7,65. Parliamo adesso di un'operazione di soccorso avvenuta sull'Etna. Allertati dalla centrale operativa del 118, i tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano, insieme ai militari della Guardia di Finanza, sono intervenuti per soccorrere un escursionista infortunatasi sul versante nord dell'Etna. La ragazza, in compagnia della sorella, mentre si trovava lungo il sentiero, a causa di una caduta si è infortunata la gamba destra, non riuscendo a proseguire verso la strada del rientro. Le due escursioniste hanno dato l'allarme, fornendo all'operatore del 112 la loro posizione e il recapito telefonico, grazie ai quali le squadre di soccorso hanno potuto mettersi in contatto con loro, raggiungerle rapidamente e prestare loro soccorso. I soccorritori hanno provveduto a trasportare l'escursionista infortunata con una barella portantina fino al sottostante piazzale del rifugio Citelli, dove è stata affidata ai sanitari del 118 intervenuti con un'ambulanza. Presente sul posto anche il soccorso montano del corpo forestale. Mettiamo per un attimo da parte la cronaca, adesso parliamo dei saldi invernali, perché in Sicilia è già tempo di sconti, si parte il 2 gennaio, Sicilia che anticipa rispetto al resto d'Italia. Vediamo il servizio. Dal 2 gennaio è tempo di saldi invernali in Sicilia, fino al 15 marzo del 2023. La regione Sicilia anticipa di qualche giorno la tabella di partenza dei saldi a livello nazionale, dove gli sconti scatteranno invece dal 5 gennaio. L'avvio dei saldi del 2 gennaio farà bene al commercio e ai consumatori, ha dichiarato l'assessore regionale alle attività produttive Edi Tamaio. La misura che abbiamo condiviso, ha aggiunto, in accordo con le associazioni che rappresentano i piccoli commercianti, ha proprio lo scopo di dare linfa vitale ai negozianti che potranno incassare liquidità fondamentale per la loro sopravvivenza e fornire occasioni di acquisto migliori per gli utenti. Dopo la pandemia si è tornati alla programmazione biennale dei saldi e delle vendite promozionali, che oltre a essere prevista dalla legge, è uno strumento fondamentale per consentire ai commercianti e ai consumatori di potersi organizzare anticipatamente. La programmazione, fissata con decreto lo scorso aprile dall'assessorato regionale delle attività produttive, prevede i saldi invernali appunto dal 2 gennaio al 15 marzo 2023, mentre quegli estivi dal 1 luglio al 15 settembre. Nel calendario sono stati fissati anche i periodi per le vendite promozionali, dal 16 marzo al 30 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre 2023. Ed ora il Covid. Andiamo a vedere i dati del consueto bollettino settimanale diramato dalla regione siciliana. Nell'isola scendono sia i contagi che le ospedalizzazioni. Vediamo il bollettino. Nella settimana dal 19 al 25 dicembre si registra in Sicilia un calo delle nuove infezioni da Covid. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Ragusa, Palermo e Caltanissetta. Sono i dati del Dipartimento Attività Sanitarie della regione siciliana. Le fasce di età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 70 e i 79 anni, tra gli 80 e gli 89 anni e tra gli over 90. Anche le nuove ospedalizzazioni sono in diminuzione. I dati relativi alla campagna vaccinale prendono in esame la settimana dal 21 al 27 dicembre. Nella fascia d'età 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano al 24,29% mentre hanno completato il ciclo primario 64.390 bambini pari al 20,89%. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,91% mentre la percentuale di chi ha completato il ciclo primario è pari all'89,55%. I vaccinati con terza dose sono 2.771.724 pari al 72,39% degli aventi diritto. Torniamo a parlare di cronaca con una notizia da Catania dove i carabinieri hanno beccato e tratto in arresto una trentenne protagonista di diverse evasioni dai domiciliari. I carabinieri della stazione di Librino hanno arrestato un trentenne catanese pregiudicato per il reato di evasione. A tale riguardo i militari dell'arma nell'ambito dei servizi di controllo ai soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi da scontare all'interno delle proprie abitazioni sono intervenuti in Viale Castagnola nel quartiere di Librino presso l'appartamento di residenza dell'uomo sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per evasione. Nella circostanza i carabinieri avuto accesso all'alloggio hanno appreso dalla moglie del trentenne che lo stesso non si trovava in casa poiché si era dovuto allontanare per una non meglio chiarita urgenza sanitaria. Il soggetto in particolare sarebbe uscito senza preavvisare le forze di polizia per acquistare i medicinali necessari ad uno dei figli minori. Tuttavia quando il trentenne alcuni minuti dopo è spontaneamente rientrato a casa non aveva con sé alcun farmaco a testimonianza della non veridicità delle motivazioni accampate sino a quel momento. L'individuo è stato posto dai carabinieri a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto e disposto il ripristino della misura detentiva. Torniamo a parlare di spaccio di sostanze stupefacenti. La notizia in questo caso arriva da Scicli nel Ragusano dove i carabinieri hanno tratto in arresto un pusher, un ventotenne tunisino. Prosegue costante l'attività dei carabinieri della compagnia di Modica attuata con un'azione persistente e sistemica volta a prevenire e reprimere ogni forma di reato. In tale contesto nei giorni scorsi è stato predisposto un apposito servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti. Il servizio condotto con il prezioso supporto delle unità cinofile e dei colleghi a quattro zampe è stato concentrato a Scicli e Ispica città particolarmente bersagliate di recente da fenomeni di degrado urbano legati soprattutto all'abuso di alcol e alla vendita e consumo di sostanze stupefacenti. Lo sforzo dei militari dell'arma ha permesso di arrestare un ventotenne tunisino. Il giovane sottoposto a perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di circa 1,2 kg di hashish e 140 g di cocaina. Rinvenuto tutto all'interno della sua abitazione a Scicli la prima sostanza era suddivisa in oltre 10 panetti mentre la seconda si presentava in pietre solide da cui successivamente si sarebbero ricavate le singole dosi. Dopo la convalida dell'arresto il giovane ha ricevuto la misura cautelare della custodia in carcere presso la casa circondariale di Ragusa. Nella medesima cornice operativa i carabinieri hanno proceduto a segnalare alla prefettura di Ragusa tre ragazzi spicesi tra cui un minorenne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti del tipo hashish per uso personale per un totale di circa 12 grammi. L'attività particolarmente proficua ha permesso il sequestro dell'ingente quantitativo di stupefacente per un valore complessivo di circa 20 mila euro ed evidenzia l'impegno sempre altissimo profuso dalle istituzioni al fine di garantire una risposta quanto più pronta ed aderente possibile alle esigenze della collettività. Torniamo adesso a Catania per parlare nello specifico dell'arresto di un 38enne violento il quale continuava a perseguitare l'ex compagna. Tutti i dettagli nel servizio. Personale delle volanti è intervenuto a Catania in Viale Moncada su richiesta di una donna che aveva segnalato la presenza del proprio ex convivente dietro la porta di casa. L'uomo stava bussando in modo insistente chiedendo di entrare per vedere i figli e avere del denaro. All'arrivo dei poliziotti il soggetto già in passato denunciato dalla donna per maltrattamenti in famiglia anche nei confronti dei figli minorenni e per questo già destinatario di ammonimento da parte del questore di Catania si era dileguato. Subito dopo però il 38enne è ritornato ricominciando a bussare violentemente alla porta dell'ex convivente la quale ha nuovamente richiesto l'intervento delle volanti. Questa volta all'arrivo degli agenti l'uomo era ancora sul posto e incurante della presenza della polizia continuava con tono minaccioso a chiederle insistentemente del denaro e di entrare in casa per vedere i figli. Infuriatosi per non aver ottenuto quanto desiderato ha iniziato a prendere a pugni e a calci la porta ma è stato fermato dagli agenti che sono riusciti con non poche difficoltà a bloccarlo. Il soggetto è stato quindi arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione e associato presso la casa circondariale di Piazza Lanza in attesa del giudizio di convalida. Per il momento è tutto ci fermiamo qui ma ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24. Grazie a tutti Grazie a tutti